Gentili telespettatori, buona giornata. Fratelli d'Italia protesta contro le mascherine cinesi alla Camera. Ma Roberto Fico non ci sente comprare italiano, ma è giallo in aula. Ma vediamo che cosa è successo. Fratelli d'Italia incassa un'altra vittoria. L'unico partito che c'è ovviamente all'opposizione ha ottenuto la rimozione delle mascherine cinesi date in dotazioni ai deputati. Tra i primi a esultare, dopo la denuncia alla Camera, è Andrea Del Mastro. Le mascherine FFP2 cinesi, improvvidamente poste a disposizione dei deputati, sono state tutte rimosse. Sappiamo che il presidente Fico non ci sente quando chiediamo che le aziende italiane vengano sostenute negli acquisti. Sappiamo che questa maggioranza senza patria non comprende il valore simbolico di acquistare italiano e quindi dobbiamo concludere che vi fossero anche problemi di sicurezza per i dispositivi acquistati in Cina. Non manca dunque l'appello a Roberto Fico che dal scranno più alto di Montecitorio si assuma l'impegno di comprare italiano. Beh, sicuramente se questo impegno fosse reale di comprare prima italiano, molte aziende italiane sarebbero state sostenute in questa pandemia. Vi ricordate quel bonus monopattino dove si diceva che la maggior parte dei monopattini arrivano dalla Cina e poi si comprano le mascherine dalla Cina? Molte si producono anche in Italia ma una parte si producono in Cina. Ecco, insomma, proprio la Cina da dove è partita l'epidemia noi andiamo a comprargli le cose in modo da sostenere la loro economia e non la nostra. Ecco, bisognerebbe prediligere soprattutto in una fase di questo tipo gli acquisti in Italia e soprattutto, visto che per i privati non si può dirgli dove devono andare a comprare le cose, si spera che uno Stato prediliga le sue aziende, visto che sono già in gravissima difficoltà proprio per questo fatto, per appunto la pandemia che sta radendo al suolo l'economia. Quindi bisognerebbe comprare italiano, almeno lo Stato, e invece no. Compriamo le mascherine in Cina, tra l'altro. Beh, un comparto che dalla pandemia è uscito a pezzi. E così Dalmastro chiede di acquistare proprio da quelle aziende riconvertite che hanno il divieto di esportazione e che hanno assistito alla follia di un commissario e di un governo che acquistava in massa dai cinesi, peraltro spesso, senza che venisse garantita la sicurezza. E poi aggiunge oggi abbiamo vinto ottenendo la rimozione delle mascherine, ma non ci arrenderemo mai di più dispositivi cinesi nella casa degli italiani, ma probabilmente sono delle richieste in vano perché si continuerà a comprare fuori dall'Italia. E così arriva la replica a stretto giro degli alleati del centrodestra, che oggi sono al governo da Forza Italia e dalla Lega. Marzio Liuni della Lega dice Sono io che ho denunciato la cosa. Non voglio una medaglia per questo. Purtroppo c'è stato un pasticcio che tutti insieme dobbiamo correggere. Vedremo se c'è qualcuno che ha sbagliato. Intanto abbiamo tolto di mezzo queste mascherine. Chiudiamola qua. Mar Fratelli d'Italia non ha alcuna intenzione di rinunciare alle battaglie in difesa del paese. Lasciar passare questi atti indegni come bravate va a innescare un precedente pericoloso per il rispetto di chi tutela le vostre vite. Beh, insomma, i problemi che ha creato la precedente amministrazione, quella di Conte, sono evidenti. Ha lasciato gestire molte cose a questo Arcuri, che doveva essere un tuttologo dei problemi, no? Risolvere qualsiasi cosa. Chissà perché si sono fissati con questo Arcuri. Forse non hanno altri nomi, non sanno da che parte girarsi. Certo che bisogna capire adesso se il governo attuale, quello di Draghi, andrà sul solco degli errori precedenti o no. Beh, già è positivo che ha cambiato Arcuri per un generale degli Alpini, che si occupava di logistica dell'esercito, stimato anche in tutto il mondo, perché si è fatto notare e si è fatto valere anche all'estero, nelle missioni italiane all'estero. Bene, quindi ci sono dei segnali di cambio rispetto al governo precedente, su alcuni aspetti, su altre cose, di PCM, chiusure. Non c'è un vera e propria discontinuità, ma c'è una continuità. O forse non ci può che essere continuità su alcuni temi, perché non ci sono altre soluzioni. Sappiamo che sulla questione della pandemia non ci sono lockdown che risolvono assolutamente nulla. Diminuiscono solo l'espansione e le morti, lockdown. L'unica soluzione, e non ce ne sono altre, è vaccinare tutti. Questa è la realtà. Naturalmente fanno un po' paura tutte queste cose strane che stanno succedendo intorno ai vaccini, da alcune morti, alcune cose. Ma vedremo che cosa diranno gli organi proposti a capire se sono pericolosi o no, o discretamente pericolosi. Bene, diciamo che vedremo se adesso non solo alla Camera, ma anche fuori dalla Camera dei deputati continueranno ad acquistare mascherine cinesi. Possibile che in Italia, convertendo la produzione, le aziende non riescano a produrle per il fabbisogno degli italiani. Insomma, è un business anche questo. Lasciamo che questo business rimanga all'interno dell'Italia, che i soldi non vadano fuori dal Paese, ma vengano pagati gli imprenditori italiani. Beh, sul conflitto per attribuirsi il successo di aver fatto sostituire le mascherine alla Camera, insomma, lascia un po' quel che trova. Sì, è importante, tra virgolette. Sono state sostituite le mascherine alla Camera, va bene. grande vittoria, ma non mi sembra che debbano litigare Lega e Fratelli d'Italia, perché l'ho detto io, no, l'ho detto prima io, no, è merito mio, me lo merito, merito io. Beh, insomma, è un po' piccola come cosa per farsi una battaglia di attribuzione. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Ecco, i video che trovate su Teleitalia Seconda Rete e su Teleitalia, poi dopo qualche ora li trovate anche in Facebook, dove li potete condividere se volete sul vostro profilo. Vi invito ad iscrivervi sia su Facebook che su Teleitalia Seconda Rete, perché ci sono pochi iscritti rispetto al canale principale che ha superato i 110.000 iscritti. Ecco, nella community del canale trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare e tra una ventina di minuti, se volete, ci sarà disponibile un altro video. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.